Penso che sia abbastanza facile prevedere che dopo l'Europa ci sarà un cambiamento di scenario politico. Questa è l'impressione che ho. Dopodiché è molto difficile immaginare, soprattutto con tante imprevedibilità, che in questa maggioranza vengono fuori. Però l'impressione che non rega questo schema, questo mi sembra evidente, nel senso che il 5 Stelle dall'alleanza con la Lega in parte si è trasformato, e secondo me questa è una cosa negativa, perché il 5 Stelle all'inizio aveva avuto, anche nel rapporto con la voglia di partecipazione dei cittadini, aveva avuto degli effetti e anche dei messaggi tutto sommato che erano stati. E mi sembra che adesso invece stia girando tutto. E il PD, il nuovo PD di Zingaretti di cui lei è rientrato a far parte riprendendo la tessera, che parte deve giocare? Cioè se c'è una crisi di governo, chi deve fare il PD? Secondo me non ho dubbi, io condivido quello che Zingaretti ha detto. Oggi manovre politiche in Parlamento incomprensibili dagli elettori non avrebbero senso. Quindi secondo me ha fatto bene a dire, oggi è il tempo in cui tutto deve essere fatto in grande trasparenza, quindi penso che il PD debba chiedere elezioni anticipate e non debba essere disponibile a trasformismo in Parlamento. Allora, nel suo libro, all'inizio di questo libro, in cui lei dice che è molto preoccupata per l'Italia, dice anche che mi sento spaesato e al tempo stesso carico di curiosità e voglia di fare. E sullo spaesamento dice che mi faccio fatica a rispecchiarmi nell'Italia di oggi, a dirmi tifoso di questa proposta politica. Cosa vuol dire questo? Ma guardi, vuol dire questo, che il nostro paese ha fatto un cambiamento radicale l'anno scorso. Il voto ha cambiato tutto, ha fatto tabula rasa. Credo che ci sia bisogno oggi, qualunque sia il pensiero che sia in testa, di ragionare su progetti sul futuro che abbiano veramente gambe nuove, facce nuove e anche idee nuove. Io, la cosa che ho fatto sul mio paese, nel mio paese in questi anni, è stato investire su una scuola di politiche. L'ho creata, è la cosa che mi tiene legato al mio paese, ci vengo periodicamente. Questi cento ragazzi l'hanno che mi fanno dire che bisogna investire sui ventenni, perché i ventenni italiani oggi hanno una marcia in più. Gli diamo gratuitamente una opzione di formazione nelle istituzioni.